Tu non sei Killer Kid. Sei uno spione. E sei qui per rubarci l'oro. Se sei il famoso pistolero, avanti, dimostracelo. Ramirez lo ha riconosciuto. Ma tu l'hai mai visto il manifesto della taglia? No, ma ricordi che ti ho detto? Ah, già. Ma hai detto qual è la specialità del gran pistolero del West. Su, dillo. Può bucare un dollaro d'argento a trenta passi col bersaglio in movimento. Magnifico. È una cosa che facevo molti anni fa da ragazzo. Quando i bersagli non erano uomini vivi, forse non hai più la mano tanto sicura, vero? Il riflesso dei fuochi può ingannare. Chico! È un'arma americana. Dovresti essere avvantaggiato. Ecco il dollaro d'argento. Ci vuole qualcuno che rischi la prova. Mi offro io. Mercedes, sei pazza? Va bene qui, Vilar? Sono più di trenta passi. Perfetto, signorita. Grazie. Su, farei vedere cosa sai fare. Levantami in mezzo, lui! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.